Mentre la città si divide tra favorevoli e contrari dopo la scelta del comune di far pagare un ticket per alcuni eventi della perdonanza, il comitato organizzatore di questa 725esima edizione finalmente ha determinato le modalità di accesso e di prenotazione agli eventi. Tutto nasce da un fatto, alcuni artisti tramite il direttore artistico Leonardo De Amicis avrebbero manifestato la volontà di esibirsi in modo gratuito, devolvendo però un simbolico incasso delle serate al Conservatorio Casella per borse di studio. Si pagheranno quindi i concerti del volo del 26 agosto e di Fiorella Mannoia il 29, 10 o 15 euro. Per l'evento del 23, accensione tribo del spettacolo L'Aquila Rinasce, l'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti a sedere e non servirà la prenotazione. Per l'evento del 24 alle 21.30 in Piazza Duomo ci sarà la obbligatoria prenotazione tramite piattaforma Eventbride, ma l'evento sarà gratuito. Il 25 al Teatro del Perdono c'è Enrico Brignano che abbraccia l'Aquila, l'evento sarà gratuito ma la prenotazione sarà comunque obbligatoria tramite la piattaforma. Il 26 sarà la volta del volo per l'Aquila, un evento solidale, dunque si pagherà. Stessa cosa per il gran concerto di Fiorella Mannoia, Luca Barbarossa, Paola Turce e Noemi il 29 agosto. Anche questo sarà un evento solidale. I biglietti potranno essere acquistati tramite Eventbride o anche all'Infopoint del centro turistico del Gran Sasso in Piazza Duomo e ci saranno posti riservati ai disabili. Per gli eventi solidali del 26 e 29 agosto il comitato garantirà 600 posti a sedere nelle prime fili a 15 euro più la quota del gestore della piattaforma, 1600 posti a sedere numerati a 10 euro più la quota del gestore della piattaforma, nel primo caso 2 euro e 22, nel secondo 1,88 euro. Erano artisti che comunque noi non ci saremmo potuti permettere di comprare perché il budget della perdonanza è limitato. Hanno voluto esserci gratuitamente per il decennale del terremoto e volevano lasciare un piccolissimo segnale per questa loro prestazione. Questi soldi non entreranno nelle casse comunali né del comitato ma verranno interamente girati con un conto dedicato al conservatorio. Il conservatorio in questo momento è in una situazione difficile e attraverso questa misura probabilmente potremmo contribuire a salvarlo. Ci saranno dei posti ovviamente riservati alle autorità ma le autorità pagheranno? Saranno i primi a pagare. Assistere a uno spettacolo è un dovere, non è un privilegio. Quindi ci saranno modalità attraverso le quali le autorità contribuiranno. Contribuiranno, saranno i primi a contribuire più degli altri insomma perché è giusto anche dare il buon esempio.